Ciao, ciao amici carissimi di Ghostbusters, compagni di tanto cammino, appassionati, appassionati, cinefili e soprattutto adoratori di questo film che tanto successo ha avuto in tutto il mondo e tanto successo continua ad avere naturalmente. Mi dispiace non essere materialmente lì con voi ma sono con tutto il cuore insieme a voi in questo momento, con tutto l'affetto, con la solidarietà, con il pensiero affettuoso e con l'augurio di buon lavoro, di continuare ad amare il cinema prima di tutto e ad amare i film che più mi fanno sognare perché questa è la cosa più bella del cinema, che il cinema fa sognare. Un pensiero naturalmente particolare, affettuoso e particolare va ad alcuni amici che non sono più con noi, Oresti Lionello, Oresti Rizzini, Claudio Capone, amici di una vita, compagni di strada che ci hanno lasciato prematuramente. A tutti voi invece un augurio grande, grande, grande di successo e di felicità, di felicità. Sognate, siate allegri, amate, amate questo lavoro, amate il cinema e amate il lavoro che state facendo perché solo così ne gioirete e sicuramente ne trarrete anche tanti vantaggi sotto tutti i punti di vista. Un abbraccio forte a tutti quanti, buon lavoro, ciao!